A chi di voi è capitato nell'ultimo anno di fare un acquisto online e pentirsene? Vi chiedo di alzare le mani. Un'altra domanda. A chi di voi è capitato di aprire l'armadio e chiedersi, ma esattamente cosa avevo nella testa quando ho comprato quella roba? Qui le mani sono molto di più. È un'esperienza condivisa, perché vedete, le aziende sono molto brave oggi nel settare una serie di stimoli che ci fanno acquistare. Sono brave perché esiste una disciplina, ovvero delle neuroscienze, un campo che studia esattamente cosa accade nel cervello che acquista. Grazie allo studio delle microespressioni facciali, come questa macchina che vedete qui dietro, oppure per capire in un sito web dove va la nostra attenzione con un eye tracking. Ora, in realtà con le neuroscienze si è in grado di capire, o si sta cercando sempre di più di capire, cosa accade tra lo stimolo e l'acquisto. Perché sono qui oggi? Beh, ho due obiettivi. Il primo è raccontarvi che cosa si sa oggi sul cervello che compra. E il secondo è condividere con voi tutta una serie di sistemi, di tecniche per non farci manipolare o decidere se, quanto e come farci manipolare quando acquistiamo. Vedete, in realtà sappiamo molto sul cervello che acquista. Ora, tutto quello che è intorno a noi sono una serie di stimoli, parole, colori, e tutti questi stimoli vengono frullati e arrivano al talamo. E il talamo li spedisce immediatamente al limbico. Cos'è il limbico? Il limbico è il cuore del nostro cervello. E immediatamente il limbico manda il segnale ai neuroni motori che decidono se compriamo o non compriamo. La corteccia arriva molto dopo. Alcuni studi dicono millisecondi dopo, ma alcuni studi dicono addirittura alcuni secondi dopo. Ovvero, in sostanza, la corteccia, il raziocinio, la logica, arriva a giustificare un comportamento che in realtà il limbico ha preso in autonomia. E il limbico è preverbale. Il limbico si basa sulla fiducia e sulle emozioni. Quindi un mix di stimoli ci dicono, ok, mi fido, ok, sento qualcosa e compro. La corteccia arriva solo a giustificare. Tutti noi, ad esempio, compriamo per il Black Friday pensando che la leva sia il risparmio, una leva logica. Non è così. È il rimpianto. Il rimpianto di non trovare più quel prodotto. Tutti noi pensiamo di essere, come dire, vaccinati all'idea, a quelle famose frasi che escono ancora pochi posti disponibili per questo hotel, oppure già 300 persone hanno visto questa location. In realtà non lo siamo, perché queste frasi ci attivano. Perché? Perché abbiamo paura di perdere, la paura è un'emozione. Ma vedete, la manipolazione è ovunque. Un recente studio ci dice che se il personale di sala, quando prende la comanda, ripete le nostre parole, esattamente le parole che ha detto il cliente, beh, arriviamo a spendere fino al 20% in più. Perché? Perché ci fidiamo di più, ci sentiamo meglio. Ora, la manipolazione, quando parliamo di acquisti, è ovunque. E cosa fare, quindi? Ci sono due tipi di acquisti nella nostra vita. Acquisti quotidiani e acquisti ad alto impatto. Cominciamo dai primi. Quando noi compriamo qualcosa, riuscire a gestire la manipolazione è veramente difficile. Proviamo però a ragionare in maniera diversa. Tutti noi in questi due anni abbiamo vissuto momenti di privazione, lockdown, zone colorate. E quanto è bello comprare? Quanto è bello andare in un negozio e poter lasciare andare il pilota automatico? Quanto è bello andare su un sito e-commerce e fare click? Ora, la verità è che, per certi versi, la manipolazione è positiva. Perché? Perché le aziende vogliono esattamente farci fidare di loro e farci sentire meglio. Non possiamo resistere e sapere che non possiamo farlo è la cura migliore. E che cosa fare allora? Beh, semplicemente decidiamo quanto farci manipolare. E quindi la tecnica dei due budget, dei due conti correnti, delle due carte di credito. Quindi io decido quanto farmi manipolare. Ora, è come un po' un giocatore d'azzardo che sa già che non riuscirà a controllarsi e quindi decide che andrà al casino solo con una certa cifra. Beh, vedete, poi ci sono però acquisti nella nostra vita che hanno un impatto. Acquisti che cambiano la nostra vita. Compro una casa? Beh, mi sto indebitando per i prossimi 30 anni. Il modo in cui gestisco i miei risparmi avrà un grande impatto per il mio futuro. Ecco, questi sono gli acquisti dove non dobbiamo farci manipolare. Questi sono gli acquisti dove dobbiamo spegnere il limbico ed attivare la corteccia. Come fare? Beh, anche qui possiamo usare alcune tecniche pratiche. La prima, rimandare. Ovvero, di fronte ad un acquisto importante procrastiniamo la decisione, rimandiamo, perché altrimenti veniamo manipolati inconsapevolmente. Secondo, dati. È difficile trovare dei dati, soprattutto dei dati oggettivi. Però già il fatto di approcciare un acquisto guardando dei numeri attiva la razionalità, attiva la corteccia, attiva la parte più nobile del cervello. Consigli quando facciamo acquisti di impatto? Sì, ma solo se siamo certi che le persone che ce le stiano dando non vogliono, anche in maniera inconsapevole, manipolarci. E poi, forse la tecnica più importante, la meno conosciuta, il pessimismo. Sì. Quando facciamo un acquisto importante, dobbiamo metterci nell'idea di cosa succede se sto sbagliando. Vi voglio fare un esempio. Immaginiamo che decida di comprare una casa. Ok, prima cosa che devo fare, non scelgo subito, rimandosi, perché quel caminetto mi porta un po' lontano. Dati. Ok, a quanto si comprano e si vendono le case in quell'area? A quanto si affittano? Consigli? Parenti, amici. Chiediamo a chi ci vive in quella zona. Pessimismo. Ok. Se le cose vanno male, sono in grado con l'affitto di riuscire a compensarlo. Ecco, questo è solo un esempio di come una modalità di acquisto sui beni importanti possa essere davvero significativa. Ora, vedete, io mi occupo di queste cose e due settimane fa sono uscito a cena con mia moglie, perché festeggiamo dieci anni insieme. E allora ho ordinato una bottiglia di vino importante, insomma l'occasione lo meritava. E una bottiglia di vino di quelle costose, devo dire che era buonissima. Insomma, abbiamo passato una bella serata e il giorno dopo ero in ufficio e pensavo, ma davvero era così buona quella bottiglia? E mi è venuto in mente uno studio di un ricercatore californiano, un certo Rangel, il quale qualche anno fa aveva dimostrato che quando noi ordiniamo una bottiglia cara, costosa, si attivano le aree orbitofrontali che ce la fanno percepire effettivamente più buona. Insomma, per tutto il giorno mi domandavo se davvero quella bottiglia e quel vino fosse stato così buono. In realtà, per saperlo, avrei dovuto berlo come fanno i sommelier, cioè blind, all'oscuro. Invece il prezzo, la cantina famosa, la scena del sommelier, chissà quanto mi avevano manipolato. Insomma, questo pensiero mi ha accompagnato tutto il giorno. Poi sono tornato a casa, abbiamo messo a Nanna le nostre tre bimbe, e mia moglie mi ha dato un bacio. E mi ha detto, sai che la bottiglia di ieri sera era davvero fantastica? Grazie. E allora ho pensato, beh, a volte è bello farsi manipolare il cervello, ma solo se sai quando farlo. Grazie. Grazie. Grazie.